sabato ore 13 e 15 roberto mancini incontra i giornalisti alla vigilia di inter cesena conferenza stampa ufficiale solo su inter channel e inter.it sabato alle 13 e 15 prova inter channel a soli 4 euro per sette giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.it o chiama all'199 100 200 prova inter channel e poi scegli